ancora una volta molto bene, non l'ha valutato fuori gioco, adesso staremo a vedere posizione corretta e a quel punto si mette davanti con il corpo, c'è l'incrocio con le gambe e lo mette giù allora qui non apprezziamo la posizione qui che intanto è netto bisogna capire solamente la posizione di partenza di Pazzini per il resto la decisione dell'alto, rigore ed espressione giusti c'è tu, contro Giulio Sergio Samuel Eto, 27esimo gol stagionale, 3-1 per l'Inter si, ha tirato lo stesso vigore che ha tirato contro il Palermo non ferma del tutto la rincorsa e poi lo va a incrociare tutto molto bene, intuisce Giulio Sergio ma ha calciato forte, nulla da fare ancora è troppo per il 3-1, adesso vedremo se cambierà qualcosa andiamo da angelo mangiante perché adesso è veramente 10 a questo punto esce Menesse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti